Il grande cuore degli Eretini e la vicinanza al Calcit ancora una volta hanno risposto presenti. È infatti terminata la settimana all'Arezzo Fiere Congressi organizzata dagli amici del Calcit di Via Fiorentina in collaborazione con l'Isola ed è stata un grandissimo successo. Il ricavato delle serate Calcit in scena ammonta i fatti a 3.071 euro, mentre quello del mercatino dei ragazzi, nonostante la pioggia, ha toccato la cifra di 12.709 euro per un totale quindi di quasi 16.000 euro. Questo è uno dei primi mercatini che facciamo in presenza e anche quello dove abbiamo qualche banco in più, infatti ci sono 40 espositori e siamo appunto all'aperto, perciò in tutta sicurezza, nell'ambito del mercatino la gente deve circolare con la mascherina, perciò diciamo siamo contenti di ripartire e ora vediamo nel proseguo cosa possiamo fare. Il Calcit è dunque tornato in scena anche se in realtà non si era mai fermato nemmeno durante la pandemia e adesso non mancano i progetti per il futuro. Se parliamo diciamo di iniziative ne stiamo preparando da uno che si chiama Mani al Cuore per il Calcit dove prevediamo di preparare mille coperte e poi faremo una raccolta fondi in Piazza Grande il prossimo anno. Se si parla di donazione di strumenti il prossimo sarà un ecografo per l'ambulatorio della chirurgia del seno, molto utile sia per la prechirurgica che il dopo chirurgico e poi ci sono altre due donazioni importanti rivolte alla gastroenterologia e alla radioterapia che si concretezzeranno entro l'anno.